io sono l'imperatore anche se appunto non è successo ancora nulla vabbè il primo episodio come sapete è sempre di preparazione vediamo cosa riusciamo a fare in questo siamo sotto di 24.000 fucili che recupereremo in 848 giorni perché la nostra produzione è ridicola però appunto per il momento ci stiamo concentrando sulle industrie civili abbiamo perso due fabbriche militari a causa della perdita di Zargrad che è diventata Istanbul allora di qua non posso passare con la flotta quindi la mettiamo pure qui vediamo invece se il resto della flotta si è mossa no diciamo che la parte più consistente della nostra flotta è qui nel Baltico non so per cosa la useremo quindi stiamo cercando adesso di rinforzare il più possibile le navi quindi la battaglia di Tsushima appunto la più grande sconfitta della flotta russa nella quale praticamente tutta la flotta del Baltico quindi il nucleo più consistente fu distrutto dalla flotta giapponese che è stato anche il primo successo da parte di un'armata asiatica comunque di una flotta asiatica contro una europea perché fino ad allora lo strapotere occidentale rispetto a quelle orientali o comunque africane era stato era stato sempre massivo a parte la sconfitta di a parte la sconfitta nostra italiana ad Adua ma lì lo sappiamo che fu riconosciuto l'errore italiano di mandare poche truppe contro un esercito che comunque aveva i fucili comprati dagli occidentali quindi la battaglia di Tsushima fu uno scontro che cambiò la storia che cambiò la storia per due motivi allora fino a quel momento la Russia cercava di proiettare tanto sta canzone non è che mi piace molto cercava di proiettare la propria sfera di influenza nell'Asia e questo testimonia il fatto che aveva conquistato dei porti e comunque aveva preso delle concessioni importanti in Cina e voleva porre nella propria sfera di influenza la Manciuria la Mongolia e la Corea e appunto il fatto di aver perso in Asia e quindi dover perdere il suo predominio nel settore costrinse la Russia a riparare cercando di ampliare la propria sfera il proprio predominio nei Balcani ecco quello fu diciamo il fatto scatenante che portò alla Prima Guerra Mondiale pensata ad uno scontro che sembrava comunque limitato alla al Giappone contro la Russia pose le basi pose le basi per la Prima Guerra Mondiale quindi interessante anche questo però continuiamo dopo perché allora c'è scoppiata la guerra civile tra Spagna una Spagna conservator sì conservatori qui con Cosè Maria Giroblez Ikinognes che non so chi cazzo sia e poi invece la fazione comunista con Cosè Diaz bene bene marxista addirittura allora adesso noi mandiamo chiaramente i volontari alla Spagna e invece no li mandiamo alla Spagna comunista ma è dire ma sei partito di testa un pochino sì un pochino sì allora mettiamo subito le nostre i nostri volontari e intanto in chat si è scatenato si è scatenato l'orrore da parte dei dei commenti degli iscritti ma è dire è partito di testa non ha capito cosa sta facendo ma in realtà questo fa tutto parte di un mio piano un mio piano un piano malevolo e maligno dello zar Nicola II che ha redatto prima di prima di morire prima di morire perché appunto adesso a breve ragazzi il nostro il nostro il nostro zar ci lascerà no? un po' come accadeva nella Kaiserreich con con Federico II che muore per dare spazio al figlio dovrebbe succedere anche in questa a meno che gli eventi non siano cambiati dalla prima dalla prima partita che feci tanto tanto tempo fa vediamo quanto quando arrivano i volontari arriveranno l'11 maggio del 36 è un piano malevolo del vostro del vostro del vostro zar mai dire che che vediamo vediamo cosa cosa porterà cosa porterà comincio comincio un po' a che brutta questa comincio un po' a darvi qualche qualche nozione sul mio piano qualche qualche aspetto il mio obiettivo è quello di scatenare un'insurrezione marxista comunista in tutta europa abbiamo infatti i comunisti qui in in baviera che spero di far espandere questo perché perché se la ribellione comunista diventa così così grande chi potrà salvare l'europa a chi si affideranno gli europei chiaramente a noi eccolo qui il piano il piano segreto beh allora intanto che abbiamo predisposto delle truppe a barcellona mettiamoci un generale mettiamoci uno dei carri panzer leader eccolo qui e poi ci mettiamo vediamo quali sono i miei generali oddio ma che cappello stupido ha questo tipo va bene dai mettiamoci questo qui è difensivo però entrenchment diciamo che un po' tutti anche questo ha un po' di dottrina offensiva quindi mettiamoci questo allora barcellona difesa solo dalle truppe russe che sono appena arrivate i rossi non si aspettavano l'ausilio russo in questa guerra è strano è strano molto strano quello che sta per farlo allora mettiamo un attimo in pausa e blocchiamo questa no l'ho persa di pochissimo allora questa invece prosegue perché voglio saccare questa divisione sì vediamo se ce la facciamo dovremmo arrivare in tempo a saccarla mentre attacchiamo con la con la divisione di carri questa invece la mandiamo su a circondare questo ok andremo un po' avanti un po' per volta a saccare le divisioni spagnole speriamo il mio piano abbia successo e che non si e che non non ci si ritorca contro no andiamo avanti questo abbiamo fatto proseguiamo sempre nel mio tentativo di sac abbiamo quasi decimato questa questa divisione ho questa è la mia strategia saccare una per una le truppe spagnole e avanzare dove dove serve chiaramente abbiamo una motorizzata e prendiamo pure saragozza perché se i comunisti prendono saragozza difficilmente si si arrendono allora andiamo pure a prendere questa proseguiamo anche da questo lato sicuramente la presa di madrid sarà importante per noi ma possiamo anche pensare di predisporci nella nella zona settentrionale è un piano davvero malvagio quello del vostro mai dire però è da fare tanto facciamo l'industrializzazione per rinforzarci dal punto di vista militare perché siamo un po' sotto con le fabbriche con la produzione allora intanto qui sono arrivati finalmente i supporti i supporti spagnoli quindi mandiamo in una manovra di aggiramento questa motorizzata questi carri invece li facciamo proseguire la motorizzata prende Burgas Burgos addirittura no Burgas è in Bulgaria mi pare allora dottrine facciamo industria concentrata chiaramente vediamo qui cosa possiamo fare allora questo lo mandiamo lo mandiamo qua questa motorizzata allora sapete che il mio obiettivo è saccarle uno per uno queste queste divisioni vedo che tra l'altro sono mal organizzate questi spagnoli facciamo vincere i comunisti per il nostro piano facciamo un po' come come gli Stati Uniti o quando finanzano i gruppi terroristici ups cosa ho detto cosa ho detto ebbene si ragazzi è una strategia abbastanza abbastanza consueta quella di finanziare i gruppi che producono terrore intanto abbiamo vinto abbiamo già vinto con la presa di Madrid e i comunisti hanno preso il il potere in Spagna e questo è la prima è il primo tassello del nostro del nostro piano andiamo avanti con la produzione direi di mettere il il diplomatico no il capitano di industria che dovrebbe aumentare la velocità della costruzione dei nostri civili quindi andrà molto bene peccato che abbiamo preso pochissima esperienza quindi i prossimi 150 punti li investiremo nella nella dottrina teorica andiamo sempre a vedere la la produzione ok vediamo quando saranno pronte 10 aprile del 37 1 ottobre del 36 e 2 luglio del 36 quindi a breve saranno pronte anche queste anche queste navi le decisioni migliorare la condizione dei lavoratori potrebbe essere una buona idea per aumentare la stabilità però diminuisce il factory output vediamo se c'è qualche altro modo per aumentare la stabilità ok questa no non l'aumenta vediamo invece il discorso dello zara aumenta del 10% la stabilità quindi faremo questo appena il nostro zar muore sempre che c'è la possibilità sempre che muoia ecco ma penso che prima o poi lo farà perché se no non possiamo andare avanti con con i focus il giappone l'odiato l'odiato nemico cominciamo già a preparare un teatro eccolo qui la vendetta per Tsushima ok quindi questo cominciamo già a disporlo attorno alla Manciuria vorrei cercare di fare un accordo comunque con la Cina vediamo se vediamo se mi sarà possibile perché è interessante avere un alleato contro i giapponesi perché magari noi dovremo proiettare il nostro esercito in più in più scenari e quindi questo renderebbe più difficile la nostra la nostra guerra in Giappone gli errori a Tsushima nella guerra in generale contro i giapponesi fu per i russi quello di sottovalutarli molti dicono che il Giappone la Germania aveva magari del del razzismo nei confronti dei giapponesi dicevano che erano dei subumani i tedeschi anche quando fecero anche quando fecero il patto tripartito non ci credevano mai fino in fondo ecco quel sentimento era abbastanza condivisa in tutta l'elite europea in realtà abbiamo prodotto finalmente una battleship abbiamo recuperato trade ochiard che mettiamo subito sui light cruiser e poi mettiamo in produzione anche dei destroyer che mi piacerebbe però allora tirkoekans si ok che mi piacerebbe però sviluppare nei destroyer 2 appena ne avremo la possibilità appena terminiamo questi queste queste tecnologie delle costruzioni che sono che sono tappe obbligate se no non costruiamo più un cazzo e quindi ok un giorno fatto vediamo se c'è qualche altra dottrina da fare queste sono tutte del 37 quindi metterei subito a produrre la classe gnevni così abbiamo i destroyer di livello 2 li scateniamo contro contro il giappone vediamo cosa cosa dobbiamo fare per avere il lo slot di ricerca extra in teoria dovrei fare questo posso farlo ok posso farlo in realtà questo perché vorrei fare no cazzo non me lo da lo slot di ricerca extra devo fare questo è morto nicola secondo bene lo sapevamo l'avevamo l'avevamo già annunciato nicola secondo è morto e rimane nel popolo russo come uno dei grandi fondatori della della patria nicola secondo ve l'ho detto è una figura una figura che ammiro soprattutto perché nicola secondo voleva creare un rapporto col popolo importante cioè ascoltava le richieste almeno ci provava ad ascoltare le richieste dei contadini quando il suo alto comando non glielo consentiva perché voleva rimanere proprio nell'immaginario essere ricordato dal popolo russo come un santo ecco lui si aspirava aspirava tantissimo a diventare come un suo predecessore alessio primo ricordato come un santo nella popolazione infatti comunque la figura di nicolo secondo è stata riabilitata almeno dalla chiesa ortodossa infatti è considerato un martire ed un ed un santo abbiamo fatto l'industrializzazione questo non posso farlo ah ok niente non posso farlo quello facciamo il focus delle infrastrutture che così voglio avere subito lo slot questo mi darà anche delle risorse extra quindi interessa cazzo ragazzi ho sbagliato dovevo fare quello il discorso dello zar per avere il nuovo zar e così rimaniamo nel consiglio di regenza qui provvisorio governo provvisorio russo va bene dai lo faremo più avanti tanto abbiamo le fabbriche militari in più chiaramente i fucili per il momento per questa fase rafforzerei un po' anche il support equipment che può essere sempre utile magari mettiamo pure qualche fabbrichetta sui carri sulle motorizzate e sugli aerei gli aerei li produrremo massicciamente più avanti quando le nostre industrie saranno saranno più forti quindi il secondo ve l'ho detto è un leader che almeno in questo scenario rimane rimane ricordato bene anche se i comunisti nella storia nella storia vera e questo sto parlando appunto nello scenario vero hanno cercato di insozzare la figura di Nicola II come un leader sanguinario come un dittatore sanguinario anche se appunto lui ci mise tutta la buona volontà anche se poi non ci è riuscito non ci è riuscito proprio perché alla fine nella prima guerra mondiale gli errori li commise lui e poi chiaramente tu puoi fare anche tutto bene ma se commetti una grandissima cazzata che fa morire 6 milioni di persone è chiaro che rimani rimani ricordato male ecco però appunto la sua figura è stata è stata riabilitata dalla chiesa ortodossa è ricordato come un santo come un martire ci sono proprio le varie icone no che lo ricordano i santini proprio invece nella chiesa cattolica chiaramente no perché faceva parte proprio di una professione di una professione diversa no era ortodosso sappiamo che la divisione tra l'ortodossia e il cattolicesimo avvenne nell'anno 1000 comunque intorno adesso non mi ricordo bene quando il patriarca Michele Cerulario se mi ricordo bene si divise dal dal papato per ragioni meno in realtà meno importanti rispetto a quelle rispetto a quelle protestanti che lì c'era davvero un tentativo di cambiare anche la chiesa anche cambiare i suoi i suoi dogmi introdurre delle nuove delle nuove delle nuove teorie invece dal punto di vista dal punto di vista della chiesa ortodossa c'è sì una differenza religiosa come chiaramente il rito greco però a tutti gli effetti fu una scelta una scelta politica mal si sopportava l'intromissione del papato cattolico romano che veniva visto molto lontano in questioni che almeno secondo gli ortodossi non non gli competevano in un certo senso io accetto il fatto che le chiese debbano debbano dividersi poi chiaramente tutto nell'ambito di essere fratelli nel cristianesimo ecco è quello che secondo me ha fallito il papato nel passato almeno adesso sta cercando un po' di riabilitare la sua figura anche perché la chiesa sta perdendo sempre più proseiti ma lo fa nel verso sbagliato e qui chiudiamo chiudiamo subito questa questa parentesi tanto siamo verso la fine del del 36 vorrei fare il focus infrastrutturale e successivamente fare il nuovo il nuovo zar quindi il nuovo discorso dello zar quindi fare la successione non stiamo perdendo comunque non stiamo perdendo consenso vediamo che abbiamo i leninisti ancora quindi Lenin ancora vivo in questo scenario non so quanti anni dovrebbe avere ma almeno una sessantina settantina tutti eh sicuramente non mi ricordo bene quando è nato in quale quale data è nato Lenin appunto so che morì negli anni venti per problemi mi pare cioè gli venne un colpo apoplettico oppure oppure mi confondo con con stalin sapete che non mi ricordo quale dei due rimase paralizzato che non poteva parlare forse stalin ecco Lenin non mi ricordo di cosa morì se qualcuno vuole dirlo nei commenti così così ci aiuta io non me lo ricordo facciamo il nuovo discorso dello zar vediamo le decisioni quali possono essere allora io migliorerei le condizioni dei lavoratori nel frattempo così aumentiamo la stabilità tanto per pochi giorni non dovrebbe essere troppo complicato intanto abbiamo l'affare Kornilov però appunto bisogna aver scelto il ramo nazionalista ma io non voglio questo voglio continuare nella mia autocrazia nella mia autocrazia zarista abbiamo infatti queste due possibili scelte o consolidare la coalizione estera o cercare di rendere il nostro il nostro impero russo la terza Roma ecco sapete no la prima è stata è stata Roma chiaramente la seconda Costantinopoli la terza Mosca ci sono stati gli inutili ottomani che hanno cercato di definire Istanbul come un'altra Roma ma appunto non li ha cagati nessuno ed è giusto che sia così perché di Romano avevano addirittura meno di quanto potessero avere i russi o di quanto potessero avere i sacri romani imperatori andiamo a velocità 5 ragazzi io vado anche un po' piano perché mi piace discutere con voi senza dedicare troppo spazio al gameplay quando non serve ecco andiamo a 4 perché forse la mod rende un po' tutto instabile andiamo a guardare la situazione abbiamo ah ecco forse non abbiamo parlato dell'Italia abbiamo Alcine De Gasperi quindi in Italia c'è stata c'è chiaramente la democrazia cristiana sempre nell'ambito del regno d'Italia con De Gasperi tra l'altro De Gasperi era una figura che era già importante nei primi anni del fascismo poi si allontanò dopo le leggi fascistissime dalla vita politica e si rinchiuse nella a far da bibliotecario nel Vaticano e quello lo salvò anche dagli orrori della guerra mondiale si rinchiuse un po' lì mal sopportava quella sorta di esilio ma gli convenne diciamo in quel periodo allora la nostra flotta la stiamo già rinforzando abbiamo le battleship del 36 quindi io direi poi di rinforzare anche quelle vediamo per quanto riguarda i focus navali cosa otteniamo russi a nevi chiaramente però lo facciamo per quelle successive quelle del 36 ce le ce le sblocchiamo noi continuiamo però construction 2 lo facciamo e facciamo anche improved machine tools potevamo fare anche l'industria concentrata ma la facciamo nel prossimo appena finisce i destroyer di livello 2 le caccia torpediniere che davvero se non abbiamo un buon esercito di caccia torpediniere qui i giapponesi ci sul classano vediamo la loro flotta è formata il 164 il 196 qui c'è bisogno di un riarmo navale davvero 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 importante non capisco perché non posso mandare la mia flotta è così lontana vediamo non si può allontanare poi di così tanto dovremmo fare dei progetti assurdi per arrivare tipo prendere delle colonie in africa per circunnavigarla non ha non ha davvero senso abbiamo fatto il discorso dello zar quindi mettiamo subito in pausa vediamo cosa possiamo fare sviluppare una lotrina offensiva ma io aspetterei qui aumentare la potenza dello zar va bene lo facciamo ma lo facciamo dopo direi di rinforzare il confine occidentale del confine a tutti e due possiamo fare per questo servono tutte e due per fare il research slot vediamo se ce n'erano altri di research slot magari che potevamo sbloccare magari sto facendo quello più più difficile la terza roma no non sblocca nulla quello della tecnologia militare neppure vediamo cosa faceva il nazionalismo qui ci dava un research slot cazzo se facciamo il settore nazionalista ci da davvero tante tante ricerche è un gran peccato perché io voglio rimanere voglio rimanere nello zarismo quindi miglioreremo il potere dello zar per quello questo è fatto però voglio avere subito il research slot quindi facciamo miglioriamo questo confine e il resto ce lo teniamo ce lo teniamo per dopo ragazzi per questo episodio è tutto abbiamo ottenuto un primo successo nella nostra nel nostro piano malevolo di creare uno spauracchio comunista in Europa per farci accogliere come dei liberatori quindi ci poniamo le basi intanto vediamo che il pericolo rosso continua ad aumentare potere ad un solo uomo perché si sono annessi un po' di staterelli inutili fantoccio che si erano creati ad esempio questo stato era stato fatto dalla Francia solo per avere un cuscinetto con i comunisti quindi il loro piano è già stato è già stato annientato però adesso i comunisti non hanno più altro in cui espandersi a tutti gli effetti perché non possono avanzare ulteriormente a meno che non dichiarino guerra chissà cosa succederà in Francia ma lo vedremo nel prossimo episodio ciao a tutti da mai dire al prossimo video ciao a tutti